Gli Zanni sono i personaggi che a Venezia sarebbero stati chiamati Giovanni e in volgare veneziano Zanni che hanno avuto una grande fortuna per la nascita della maschera, della maschera moderna specialmente perché hanno goduto di una documentazione visiva cioè di una serie di incisioni dei primi anni del Cinquecento che si chiamano i balli di Sfessania dove si vedono questi diavoli con maschere lunghe con nasi fallici che danzano in contesti veneziani. Sono le prime immagini alquanto definite di una varietà diffusa e sviluppata di movimenti di teatro eseguiti da personaggi mascherati dunque l'importanza di questa iconografia dello Zanni mascherato è fondamentale per l'origine della commedia dell'arte. Sappiamo che tutte le maschere degli Zanni diventeranno evolvendosi Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, Brighella che erano tutti Zanni all'origine dunque c'è un periodo che vengono chiamati anche Zanni Pantalone, Zanni Arlecchino, Zanni Brighella per dire che tutti nascono da questa maschera diremmo diabolica genericamente diabolica di origine medievale. Questa maschera con questo colore bianco come un osso e con questi occhi molto scavati con questo naso urtante penetrante è stata utilizzata nel film Il mercante di Venezia tratto dall'opera di Shakespeare dove una parte di questo film è stato proprio girato a Venezia. Sono due amici che usano due maschere specialmente nella parte iniziale e uno dei due porta lo Zanni bianco, questo che tengo in mano, l'altro porta un Arlecchino rosso. Questo film ha goduto di una certa importanza per la qualità della messa in scena e anche per la partecipazione di Al Pacino, il grande attore di origine italiana.